Buonasera e benvenuti a questa penultima proiezione di Internazionale.doc. Il film che state per vedere, Space Dogs, invito i registi con me, Elsa Kremser e Levin Peter. Il film che state per vedere mescola materiale d'archivio, di repertorio molto suggestivo con delle riprese attuali, contemporanee. Io non direi di più perché così potete tranquillamente scoprire il film. Sì, prima di tutto grazie per aver venuto e siamo molto felici di essere qui, quindi grazie per l'invitation al Festival. È felice di celebrare l'Italiano premiere. Grazie a tutti per la vostra presenza, ringrazio molto il Festival per averci permesso di venire qui in Italia. Siamo davvero felici. Che altro dire, è sempre bello vedere la sala piena e noi saremo contentissimi di tornare dopo la proiezione per parlare del film. Ci vediamo subito dopo. Buona visione.